un nuovo appuntamento dedicato alla cultura italiana perché in questa lezione parliamo di un di un grande artista italiano e cioè di modigliani l'arte italiana e i ritratti di modigliani non solo ritratti ma anche sculture vediamo che era un po un artista a 360 gradi allora per conoscere davvero l'italia e la cultura italiana non si può fare a meno di conoscere l'arte italiana fin dai tempi più antichi è stata l'italia è stata un centro culturale di grande importanza e nel corso della storia ha dato vita ad artisti eccezionali che hanno creato opere d'arte indimenticabili italiano per tutti ci accompagna in un viaggio nell'arte italiana alla scoperta delle opere più conosciute andiamo alla slide in cui parliamo di modigliani i ritratti di modigliani amedeo modigliani è un artista italiano originario di livorno in toscana che visse tra il 1884 e il 1920 modigliani si dedicò alla pittura e alla scultura era anche soprannominato modi o dedo dopo aver frequentato l'accademia di belle arti di venezia quindi era un veneto l'artista si trasferì a parigi dove entrò in contatto con pittori come toulouse latrec cesanne e picasso tra le sue opere più rappresentative sono ci sono sicuramente i ritratti che spesso raffigurano personaggi noti dell'epoca di modigliani allora qui sopra abbiamo una foto dell'artista e a fianco un autoritratto del 1919 un olio su tela del museo d'arte di san paolo i ritratti realizzati da modigliani hanno dei tratti molto caratteristici infatti il collo il volto e le spalle sono allungati questo è molto noto non sempre stato che quando si parla di un profilo o di una persona con un collo molto lungo e molto schiacciata si dice che il ritratto sembra a un ritratto di modigliani le linee e i tratti sono stilizzate quindi allungato visto che l'abbiamo evidenziato in grassetto significa a lungo in altezza in questo caso stilizzato significa che non è ben definito a un tratto rapido diciamo a quasi abbozzato e gli occhi hanno una forma a mandorla quindi sono molto stretti e piuttosto piuttosto larghi quindi la hanno la forma di una mandorla spesso sono vuoti gli occhi all'interno sono bianchi le due metà del viso sono asimmetriche asimmetriche è il contrario di simmetriche se fosse simmetriche sarebbero uguali asimmetriche significa che le due parti del viso sono diverse l'una dall'altra come vedete anche in questi due in questi due ritratti sopra di me la posizione della persona è ritratta ritratta è quasi sempre frontale quindi non è girata in nessun lato e neanche di profilo e l'ambiente circostante è di solito poco caratterizzato quindi come vedete nella nel retro di questi quadri non si capisce neanche bene dove siamo forse un muro un letto ma non è ben definito si dice che modigliani dipingesse i suoi ritratti molto velocemente in due sedute o anche una sola e che alla fine non facesse mai i ritocchi ecco perché dovuto al fatto che fosse così veloce a dipingere i propri ritratti queste poi sono le caratteristiche ovviamente molto stilizzati allungati asimmetrici sempre frontale quindi delle linee molto decise ma molto anche in realtà povere ma ben definite per le sue per le sue opere anche le sculture quindi quello che lui scolpiva come questo questa scultura qui sopra di me si riconoscono gli stessi tratti caratteristici quindi allungato abbozzato stilizzato con gli occhi a mandorla vedete che anche questa scultura qui sopra appunto gli occhi molto stretti molto larghi un fatto molto noto accaduto nel 1984 è quello delle teste false di modigliani perché per i primi cento anni dalla nascita dell'artista si è deciso di fare uno scavo in un'area dove secondo alcuni modigliani aveva gettato alcune sculture alcune teste furono trovate tre teste scolpite nello stile di modigliani e tutto il mondo festeggiò per il ritrovamento alcuni giorni dopo però tre studenti raccontarono che erano stati loro a realizzarle usando un trapano e le avevano poi gettate nell'area dello scavo per fare uno scherzo e fu uno scherzo ben riuscito beh la storia è durata per un po di mesi in quel periodo ero abbastanza piccolo non ricordo bene ma è stato un fatto abbastanza noto a livello mondiale perché l'artista era molto famoso è sempre stato molto famoso ovviamente all'inizio del secolo del 1900 immaginiamoci cosa significhi per il mondo dell'arte trovare delle nuove opere che possono essere diciamo nominate assegnate a un artista quindi è un fatto veramente eccezionale in questo caso purtroppo le opere erano erano finte erano erano delle degli scherzi è uno scherzo di studenti quindi ahimè non è stato trovato niente di nuovo di quello che già si sapeva ovviamente queste come vedete nella nella didascalia sono opere che sono al metropolita music di new york e anche l'altro è un ritratto che è tenuto a new york bene la lezione termina qui come sempre vi chiedo un like con seguimi sul canale fate delle domande come ne fate spesso chiedetemi perché alcune di queste lezioni magari non lo dico ma sono state richieste da alcuni follower siamo su facebook su twitter su youtube e anche su instagram da poco e quindi seguiteci anche su instagram vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre ci vediamo nelle prossime lezioni di italiano per tutti ciao